Il mare rappresenta un fattore fondamentale dello sviluppo della civiltà umana, poiché le condizioni climatiche favorevoli, la disponibilità di organismi di uso alimentare e la facilità degli scambi commerciali e culturali promuovono l'insediamento delle popolazioni nella fascia costiera. Il mar Mediterraneo in particolare è stato ed è tuttora crocevia storico di popoli e culture insediatisi nel corso dei secoli sulle coste proprio per le sue particolari caratteristiche, posizione geografica, stabilità di condizioni climatiche, coste estremamente frastagliate, continuo rimescolamento delle acque a causa della presenza di un complesso sistema di correnti e del lento ricambio con l'oceano atlantico. Al contrario di quanto avviene per l'ecosistema terrestre, l'aspetto del mare appare mutato ai nostri occhi, nonostante la crescente emissione dei prodotti delle attività umane. Questo spiega perché il problema dell'inquinamento marino si è divenuto attuale solo in tempi recenti. In senso generale si intende per inquinamento marino un'alterazione dell'ecosistema dovuta all'introduzione diretta o indiretta di sostanze o energia capaci di produrre effetti negativi sulle risorse biologiche, sulla salute umana e sulla qualità delle acque. Questo processo può anche essere di origine naturale, come per esempio le eruzioni volcaniche, le alluvioni, le frane, ma spesso è dovuto all'attività umana. Anche il prelievo di risorse, come la pesca e l'estrazione di minerali e di sabbie, può essere considerato una fonte di inquinamento. Esso può causare alterazioni della struttura dei popolamenti o anomali ritmi di sedimentazione delle spiagge. Questi sono alcuni dati relativi alla quantità di sostanze che vengono annualmente scaricate nel Mediterraneo in seguito alle diverse attività produttive, da cui emerge la pressione che l'uomo esercita sull'ambiente marino. L'inquinamento ha marcate conseguenze non solo sull'ambiente, ma anche sulla salute umana, in quanto molti organismi sono in grado di concentrare elementi tossici o patogeni, provocando casi di avvelenamento o di infezione in caso di ingestione. A seconda delle cause, delle modalità e degli effetti, si possono distinguere due tipologie di inquinamento, l'inquinamento di tipo acuto e l'inquinamento di tipo cronico. L'inquinamento di tipo acuto si svolge in tempi e spazi ristretti. Un incidente che provochi un inquinamento acuto è di norma catastrofico e imprevedibile, come lo sversamento di petrolio in mare, la perdita di materiale chimico radioattivo, la rottura di un collettore fognario. In questi casi le cause sono facilmente individuabili e gli effetti, anche se gravi, sono transitori. L'inquinamento di tipo cronico è invece legato all'uso continuo di acque fluviali e costiere per lo smaltimento di sostanze o calore. Se il fenomeno inquinante viene a cessare, si possono ricreare, anche se in tempi lunghi, le condizioni originarie. I fiumi sono pertanto tra i principali vettori dell'inquinamento marino, poiché l'uomo li ha sempre adoperati come luogo di scarico di molte sostanze nocive o di rifiuto. L'uomo ha sempre pensato che queste acque possedessero una grande capacità di autodepurazione. L'autodepurazione è la capacità di favorire fenomeni di diluizione e degradazione delle sostanze immesse nell'ambiente, per cui, a seconda dei diversi fattori chimici, fisici e biologici, gli effetti degli inquinanti vanno smorzandosi nel tempo e nello spazio, perdendo le caratteristiche originarie. Contribuiscono alla capacità autodepurante del mare fattori quali correnti, turbolenza, diluizione, quantità di ossigeno disciolto, luce, pH. Oggi la capacità autodepurativa del mare si è particolarmente ridotta, così che alcuni tratti costieri non sono più in grado di smaltire i quantitativi immessi, innescando processi di distrofia ed eutrofizzazione. Il termine eutrofizzazione descrive gli effetti su un bacino d'acqua di un eccesso di sostanze nutrienti. La flora e la fauna selvatiche non riescono a sopravvivere. L'area viene sommersa dalle alghe e da altre specie che sottraggono tutto l'ossigeno al bacino. È possibile che questo fenomeno accada naturalmente, ma ormai comincia a verificarsi con tali ampiezza che la natura non può esserne l'unica responsabile. Con l'intervento umano questo processo accade più frequentemente. Le coltivazioni intensive sono una tra le possibili cause. Con l'aumentare della popolazione aumenta l'estensione delle zone coltivate. Si deve quindi riuscire a produrre una quantità maggiore di raccolto per area e questo è possibile con l'impiego di fertilizzanti chimici per accelerare la crescita delle coltivazioni. I fertilizzanti chimici sono ricchi di nutrienti, nitrati, fosfati e potassio, così che quando piove queste sostanze vengono lavate via dai campi e attraverso il suolo raggiungono i bacini d'acqua circostanti. Se il bacino non riesce a gestire l'eccesso di nutrienti, la flora e la fauna selvatiche presenti in esso cominciano a morire. Si arriva a un punto in cui solo forme di vita meno evolute, come le alghe, riescono a sopravvivere. Esistono problemi localizzati di eutrofizzazione in alcune zone sotto costa e in particolar modo nell'Adriatico, che è il mare più produttivo. L'eccesso di nutrienti nelle lagune è provocato essenzialmente dal fiume Po, carico di inquinanti provenienti da tutto il bacino padano. Il fenomeno diviene critico in estate, in concomitanza con una serie di circostanze come basso fondale, temperatura elevata delle acque, scarso ricambio idrico, elevato carico turistico. Si considerano inquinanti o stressori chimici 1. Le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili, i cui effetti non diminuiscono con il tempo o con la diluizione, come il mercurio, il cadmio e i pesticidi. 2. Le sostanze potenzialmente pericolose, ma solitamente biodegradabili, i cui effetti diminuiscono con il tempo, con lo spazio e con la diluizione, come i liquami urbani, zootecnici e agricoli. 3. I materiali inerti, di diversa provenienza, come le plastiche, i materiali terrigeni e i materiali da attività di dragaggio. Al primo gruppo appartengono principalmente i contaminanti di origine industriale, che non potendo essere degradati né dispersi, si accumulano di preferenza negli organismi e nei sedimenti. Alcuni processi, come flocculazione, sedimentazione, adsorbimento e precipitazione, favoriscono l'accumulo di inquinanti. L'accumulo negli organismi marini può essere inteso sia come bioconcentrazione che come biomagnificazione. La bioconcentrazione comporta la tendenza di alcuni inquinanti a concentrarsi in particolare nei tessuti adiposi degli organismi che vivono nella zona inquinata. La biomagnificazione è invece la tendenza degli inquinanti ad aumentare la loro concentrazione man mano che si passa a livelli più alti della rete trofica. Questo significa che nei pesci la sostanza tossica è presente in concentrazioni maggiori rispetto al fitoplancton. Al secondo gruppo appartengono sostanze normalmente biodegradabili, che arrivando in un corpo idrico si trasformano per azione dei batteri in composti più semplici quali nitrati e fosfati, ammoniaca, anidride carbonica e acqua, nuovamente utilizzabili. Si tratta di sostanze presenti in concentrazioni maggiori in prossimità del punto di sversamento provenienti dall'inquinamento domestico, come gli scarichi fognari, da rifiuti vari, come le industrie cartiere e alimentari e dall'inquinamento agricolo, per esempio le acque di scolo derivanti dagli allevamenti e dall'uso di fertilizzanti chimici. Al terzo gruppo appartengono tutti i materiali inerti, in modo particolare le plastiche, che possono intasare le vie respiratorie e filtratrici degli organismi e alterare la torbidità della colonna d'acqua, riducendo l'ingresso di luce. Per limitare e controllare l'immissione e la diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente marino, vengono esercitati controlli e misure in base alla legislazione nazionale e comunitaria, sviluppando sistemi di monitoraggio chimico, fisico e biologico. Il monitoraggio è lo strumento scientifico e amministrativo per valutare e controllare nel tempo e nello spazio una serie di parametri utili a definire una determinata situazione ambientale. Normalmente nei programmi di monitoraggio vengono studiati i vari comparti di acqua, sedimento e biota, con delle analisi chimico-fisiche della colonna d'acqua e dei sedimenti, lo studio delle comunità bentoniche, i test di bioaccumulo su specie di interesse per la pesca, la caratterizzazione dei popolamenti ittici. La morfologia del fondale viene investigata mediante side scan sonar, multi beam e riprese video con un robot filoguidato, ROV.